Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! OEEE! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi quante novità anche oggi per il nostro futuro di Fortnite! Come sapete anche se in game sembra che non ci siano degli aggiornamenti nonostante la patch sia già stata rilasciata nei file di gioco gli sviluppatori di Epic Games lavorano costantemente giorno e notte per introdurre, preparare, aggiornare, modificare e migliorare ovviamente la nostra esperienza di gioco con Fortnite! Nel video di oggi volevo parlarvi innanzitutto di nuove news sulla season 11 scoperte appunto nei file season 11 che sta per arrivare e che ovviamente vedrà l'arrivo di tante cose super interessanti! Ma parleremo anche della nuova modalità mods! Che cos'è la modalità mods? Non è un nuovo non è una nuova LTM ragazzi è una cosa che si può associare al discorso è presente alcuni sono creator di contenuti su Fortnite no? Supporta un creatore ecco Arriveranno anche i mods adesso vi spiego con calma perché è una figata incredibile E ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati con tutto quello che riguarda il dietro le quinte di Fortnite! Prima ovviamente volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator Xiuderone dove è finita è sparita eccola qua grazie a tutti ragazzi per supportarmi ogni giorno nello shop quando fate le vostre shoppazzate prepotenti mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale ci vuole un secondo e soprattutto Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live Ma prima ce l'ho raga c'ho la domandina ve la devo fare raga ieri mi avete risposto in tantissimi alla domandina Dai l'avete già capito che cosa vi voglio chiedere ve l'avevo anche chiesto su Instagram ma voglio sapere proprio qua nel panorama YouTube Ragazzi che cosa avete votato ieri nello shoppavotazione? Primo shoppavotazione assoluto ieri notte alle 2 io ho votato Hihah che è la tizia quella centrale per un discorso molto semplice non ce l'ho quindi chi e si sarebbe mai sognato di comprare Hihah nel senso adesso so che mille persone mi scrivono io l'ho comprata io non l'avevo presa e quindi ragazzi Ditemi che cosa avete votato qua sotto nei commenti ma quindi ciancio levande I bando alle ciance andiamo subito subito a vedere ovviamente le news per la season 11 Piccola premessa tutte le foto che state vedendo compresa questa alle mie spalle sono dei concept Quindi ragazzi non c'è ancora nulla in fotografia in immagine in gameplay ufficiale per la season 11 Ma nei file di gioco è stata trovata la data di rilascio della nuova season Questa finirà il 6 ottobre Però la season 11 incomincerà 5 giorni dopo quindi sembrerebbe l'11 ottobre il che vuol dire che in questi 5 giorni potrebbero esserci come già successo nelle precedenti season gli stili sbloccabili per qualche skin Non sappiamo ovviamente ancora nulla sappiamo però che questa nuova season entrante la 11 finirà il primo dicembre È ovvio pensare che il tema sarà quello dove c'è il fortnightmare ed è ovvio anche pensare che poi nella season 12 arriveranno tutte le cose a tema natalizio Ma adesso fa ancora caldo quindi limitiamoci a parlare solo della season 11 Andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi Ah una notizia per alcuni che me l'avevano detto effettivamente avevate ragione c'è un bug nelle sfide Nella sfida spara e prega se non ricordo male in italiano si chiama così Non c'è il progresso di danneggiare le strutture con la minigun Non preoccupatevi ragazzi sistemeranno fixeranno se qualcuno non dovesse averla ancora terminata e prima della chiusura della season Andate tranquilli che completerete anche questa sfida Ma andiamo avanti invece con il prossimo argomento E se te ne vai mi fai un favolano le farfalle Non mi toccare come si dice che schifo le farfalle che mi toccano Anche qua Fortnite mod menu Anche questa è un'immagine ovviamente che è un concept Quindi non è nulla di ufficiale Ma quello che sto per farvi vedere è più che ufficiale Perché arriva direttamente dai grossi leakers mondiali Che hanno trovato nei file di gioco ovviamente delle nozioni e delle informazioni Ma che ne devi smettere di toccarmi Come si dice ci sono dei punti di aggiornamento nei prossimi mesi Parlo di mesi perché ragazzi nella modalità mods si parla addirittura del Vieni da ridere Si parla addirittura del 2020 Modificheranno alcune cose relative allo shop, allo store di Fortnite Metteranno delle pagine aggiuntive dove si potranno trovare i trend dei giochi Di forti di epigames del negozio A noi ci interessa questa voce Mod support Che cosa vuol dire? Vi faccio vedere Allora Praticamente non appena sarà disponibile la possibilità La possibilità I giocatori quindi voi avrete una lista di persone Quindi giocatori che io credo siano i grossi streamer I grossi creatori di contenuti O anche quelli che magari hanno fatto dei quartieri che sono stati inseriti in game Per nominarli mod E che cosa vuol dire? Vuol dire che qualora voi giocaste in qualche mappa che verrà creata o che c'è già Di un giocatore che è stato nominato dalla community di Fortnite mod Lui avrà la possibilità appunto di moddare tra virgolette il game Le partite Non si sa molto ancora perché appunto è una notizia appena uscita E sono le prime cose scoperte Però si immagina che possa essere tipo una specie di masterfati Diciamo quindi durante il game può fare delle modifiche Può aggiungere, togliere, fare Insomma ragazzi Una roba molto particolare che ancora va capita Ma che ovviamente io voglio farvi sapere per tenervi sempre aggiornati E chiudiamo ragazzi con l'argomento finale che sono le sfide Summer Slarp Quindi quelle a tempo limitato se non ricordo male Che includeranno la nuova stellina segreta Che si troverà ve lo posso già dire nel taco Nel negozio del taco a Boschetto Bisunto Farò un video non preoccupatevi con la posizione esatta Le sfide le conosciamo di già Una kill con armi esplosive Due utilizzi di trappole Nello stesso match No ma per la versione per il prestigio Invece si quindi utilizzare due oggetti Dello slot delle trappole Cercare un forziere Una scatola di munizioni E utilizzare un distributore Nello stesso game Fare danni per un totale di 500 Con i fucili a pompa agli avversari Atterrare a rapide ghiacciate O a rampe ghiacciate Oppure a montagnole maledette In match diversi per un totale di 3 volte Fare danni con la pistola agli avversari Per un totale di 200 E cercare dei forzieri A Boschetto Bisunto O a scalini scatenati Insomma ragazzi Anche per oggi Tantissime novità Per quello che riguarda Il futuro di Fortnite Io vi ringrazio tantissimo Per aver guardato questo video Da me e dalla farfalla volante È veramente tutto E' utile che voli qua in giro Noi ci vediamo alle 8 in live Ciao Noi ci vediamo al video Noi ci vediamo alla prossima